Buonasera BC Sportland e benvenuti alla quinta giornata del tuo pambio vero localco Caccia 5 Serie 1 di fronte a Ester. Vediamo che avrà la meglio. Destro in porta, la pallano dentro, incredibile, contigia un passo d'avvantaggio. Zarkone con una grande lottata a Mancino, traversa ancora il tire di Noa, Iceberg. Zarkone col destro, arriva il vantaggio di Iceberg con il destro in Zarkone. Paggione che apparticola in porta a me di sinistra, arriva il 2-0 di Iceberg. Schema perfetto. Zarkone, Zarkone solo col Mancino, 3-0 Iceberg. Zarkone in contropiede, no perdona. Zarkone, da due parti incredibili, traversa ancora di Sardella. Caspazzo entra in area, va in porta con il Mancino e fa un gol bellissimo. Tartagni. Attenzione, arriva il gol su questo schema. Zarkone e mezzo. Zarkone riesce a passare con la magia. Zarkone, Mancino ed è bravissimo in un tempo a parare. Poi sulla ribattuta, Pottigia, mette dentro il 5-1. Scatigna apre tutto su lui. Scatigna controlla destro e pallerrete. Bel gol di San Giuliano. Pottigia. Destro. Gol bellissimo di Pottigia. Pottigia. Grazie a giocatore di Tartagni che porta col Mancino. E trova un gol bellissimo. Tartagni. 6-3. Pottigia. 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 Destro. E poi mette. Soltigia. Destro. E arriva il gol. Tisartella. Si gilla con l'otto a sale. Un'ottima prestazione. 8-3. Per Iceberg. E' un'ottima prestazione. 10 punti di certifica. Un'ottima prestazione.